Campionato con tante ambizioni per l'Acca Montella, ma noi stiamo conoscendo una società radicata sul territorio, centinaia di iscritti. Non ce ne vorrà la prima squadra, la lasciamo per un istante da parte e parliamo un po' dei giovani, dei giovanissimi. A che età si entra nella famiglia dell'Acca Montella? Partiamo già dai bambini di 4 anni, maschiette e femminucce, quindi abbiamo circa 300 iscritti distribuiti nel nostro territorio. Per territorio intendo non Montella, ma Montella, Cassano, Torella, Castelfranci, Lioni, tutto il nostro territorio, il bacino, perché altrimenti sarebbe difficile poter raggiungere un numero di iscritti così alto per noi, considerando solo un paese. Tanti sacrifici per poter allestire una squadra competitiva in B1, rispetto a questi sacrifici ci si augura che il palazzetto sia gremito, quest'anno andremo però oltre il palazzetto anche attraverso Sport Channel. Sì, questa è la novità che ci fa ovviamente orgogliosi per tutto il lavoro che in questi anni noi con tanto sacrificio stiamo svolgendo, perché l'Acca Volley, che nasce da più di 30 anni, sicuramente è tenuta da persone che prima di tutto, col cuore e con il proprio lavoro come volontariato, diciamo, svolgiamo questa attività. Grazie anche, mi permetto, ma è doveroso ringraziare l'Acca Software, che con l'Acca Volley come appendice è un piccolo fiore all'occhiello dell'Acca Software, è un piccolo, diciamo, un'ulteriore soddisfazione per questa azienda di Montella, riusciamo a far fronte a quelle che sono le spese, che non sono poche, per tenere e per fare questo lavoro. Abbiamo istruttori, abbiamo una scuola di pallavolo proprio, quindi siamo certificati e questo ovviamente porta dei sacrifici anche economici. Importanti. Montella e tutta l'Irpinia in giro per l'Italia, da Trapani a Roma si sale in coppia? Sì, perché con il campionato di B1 l'Italia viene suddivisa in tre e noi praticamente, a noi ci toccherà il sud dell'Italia, partendo dal Lazio fino alla Sicilia, anche se ci sono toccate anche trasferte, perché due anni fa siamo riusciti anche ad arrivare alla Coppa Italia e quindi siamo saliti anche oltre, diciamo.